La squadra 68, chi è là? Chi è là? Il capo squadra Faccio una dichiarazione Che intenzioni avete? Come avete intenzione di classificarvi? Primi? Primi come? Di squadra? Primi di bellezza? Primi di bellezza? L'A, questo è l'A, il B Dove è il B? Il B è un maschio? E Diego? Dove è il B? Ma lui è 18, cosa c'entri tu? Allora niente, 68B Eccola, con il cervino dietro Guarda che bella E allora che intenzioni avete? Beh vincere ovviamente La lotteria Io l'hanno scorso vinto la bicicletta Ma a sorteggio però Non per le prestazioni L'altro 68B Io penso che i miei capelli siano molto aerodinamici Guarda che bella C'è un Extensions Viola Bellissimo Di 18 non ce ne sono più? No, dei 68 Tutti finiti? No, me l'ha già detto Fatemi vedere Fatemi vedere i 18 Chi è là? Chi è là? Io! La Giudi? Ciao! Ma lui tra poco partite Siete emozionati? Fammi sentire No, no Batte Batte forte L'emozione Avete paura che vi raggiungiamo? No Tu sei 68 Non c'entri Io ho paura di raggiungervi 17 Ci fate perdere tempo Mi raccomando Se avviate un po' di remissione Quando ci vedete lontano Frenate E state a debito a distanza 18 Dopo chi c'è?